Il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, è tornato a giurare davanti al Parlamento. Per il Capo di Stato, che a giugno compierà 88 anni, si tratta del secondo mandato settennale al Quirinale. Un mandato che nasce da una situazione politica molto difficile per il Paese. Un mandato che dovrà provare a dare risposte alla crisi nata dai risultati delle elezioni politiche di febbraio. Noi ne parleremo con Gianfranco Pasquino, noto politologo, ma prima vediamo quanto accaduto in Italia in questi ultimi mesi. Due mesi dopo le elezioni legislative, l'Italia torna alla casella di partenza, quella che prevede un nuovo giro di consultazioni tra il Capo dello Stato, rieletto per un inedito secondo mandato, e i partiti politici, gli stessi che in 60 giorni sono stati incapaci del benché minimo compromesso. Ripercorriamo le tappe di questi ultimi mesi. Il voto di febbraio conferisce al PD di Pierluigi Bersani la maggioranza alla Camera, ma non al Senato, diviso tra PD, PDL e Movimento 5 Stelle. Un risultato che è frutto anche del tanto vituperato Porcellum, la legge elettorale che nessun partito ha davvero voluto cambiare. Il presidente Giorgio Napolitano conferisce a Bersani l'incarico di verificare se può trovare un'intesa per ottenere la fiducia in Parlamento. Il segretario PD tende la mano al Movimento di Beppe Grillo, proponendo un programma di governo sulla base di pochi punti condivisi, ma il tentativo fallisce. La decisione per quanto riguarda il Senato è stata quella di votare no alla fiducia al Partito Democratico e a un governo fatto da Bersani e dal Partito Democratico. Tra i democratici alcuni spingono per l'ipotesi di larghe intese con il PDL e l'opzione sollecitata anche da Silvio Berlusconi. Ma Bersani non la prende in considerazione, sicuro com'è che la sua base elettorale non glielo perdonerebbe. Cerchiamo di dire perché non lo vogliamo il governissimo, non non vogliamo il governissimo, perché Berlusconi fa schifo, perché non è questo l'argomento, non è questo, perché la gente può anche dirti ho capito che Berlusconi ti fa schifo, però qua ci sono dei problemi. Allora il punto è che non è la risposta ai problemi. Nel semestre bianco, l'ultimo del settennato, il capo dello Stato non può sciogliere le camere e indire nuove elezioni. Non gli resta che attendere la nomina del suo successore e per facilitargli il compito nomina un gruppo di saggi che formulano proposte di riforme economiche e istituzionali. Ma lo sforzo di eleggere un presidente condiviso si infrange contro i particolarismi. A uscirne sconfitto è Bersani, che vede il proprio partito dilaniato da veti incrociati che affossano i suoi due candidati, Franco Marini e Romano Prodi. Amareggiato si dimette da segretario. PD, PDL, Lega e Lista Civica implorano Napolitano di restare per un secondo mandato e al sesto scrutinio è il suo nome che si impone su quello di Stefano Rodotà, candidato dei 5 Stelle. Beppe Grillo grida al golpe, poi corregge il tiro, ma tra i suoi elettori e tra quelli del PD la delusione è grande. In collegamento da Bologna abbiamo con noi Gianfranco Pasquino, docente universitario e politologo italiano. Professor Pasquino, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, partiamo subito dalla scelta di Napolitano di accettare l'invito delle due principali coalizioni politiche del paese a ricandidarsi per un nuovo mandato. Giorgio Napolitano ha accettato, chiedendo però in cambio ai partiti responsabilità. Gli italiani dal canto loro si stanno chiedendo quanto questi politici, che negli ultimi mesi hanno dato una pessima immagine, possano essere in grado di mantenere questa promessa. Secondo lei quanto ci vorrà prima che i partiti facciano di nuovo saltare il banco? Io mi auguro che non incominciano a mettersi d'accordo soltanto sul fare saltare il banco. Credo che dovrebbero prendere almeno un anno di tempo perché debbono fare alcune cose assolutamente essenziali. Una è la riforma della legge elettorale e la seconda è mantenere la barra sulle riforme economiche e sociali cominciate sotto il governo Monti e che sono state concordate con l'Europa. I patti devono essere osservati e per questo ci vuole almeno un anno di tempo. Poi potranno decidere se vogliono fare saltare il banco, rifugiarsi sotto il banco oppure costruire un banco diverso. Professor Pasquino, lei ha parlato subito di Europa. Che messaggio secondo lei ha voluto inviare l'Italia a Bruxelles con la rielezione di Napolitano? Il messaggio è, vi ricordate, abbiamo un ottimo Presidente della Repubblica, che ha un prestigio internazionale notevole, che è in grado di parlare con voi in inglese e in francese e che rappresenta in maniera degnissima una Repubblica che ha molti problemi da risolvere. Eccolo qua, è continuata ad avere fiducia in noi e i mercati sembrano che abbiano già risposto in maniera positiva. Professor Pasquino, il favorito ora per la Presidenza del Consiglio sembra essere Giuliano Amato. Secondo lei, Amato, nei prossimi mesi sarà in grado di portare avanti quello che lei diceva prima, cioè sia le riforme istituzionali necessarie per il Paese che un progetto di politica economica? Anzitutto Giuliano Amato, se verrà scelto da Napolitano, è uno degli uomini che Napolitano stima di più e dietro il quale certamente metterà il suo prestigio e il suo peso politico. Giuliano Amato è un uomo che ha competenze internazionali, è un altro uomo che parla benissimo l'inglese ed è stato anche il Ministro del Tesoro, sarebbe bene ricordarlo. E cioè non soltanto un giurista, ma è anche qualcuno che conosce molto bene l'economia. Dunque, con il sostegno del Presidente e con un minimo di responsabilità da parte dei partiti, Giuliano Amato potrà fare quelle riforme che sono già state delineate e che devono essere portate a compimento nello spazio di un anno, non di più, perché altrimenti si rischiano ritardi enormi, si rischiano inadempimenti e si rischia di nuovo una speculazione sui mercati contro l'Italia. Quindi secondo lei non è probabile che si torni prestissimo a votare? Prestissimo, se lei mi sta dicendo che sono 3, 4, 5, 6 mesi direi proprio no. E credo anche che dobbiamo dare un anno di tempo a un governo, nessun governo in nessuna parte del mondo, neppure nelle democrazie più efficienti, può progettare qualche cosa se sa che sopravvive soltanto un anno. Qui il problema è di riuscire a ricostruire un paese, in un anno non lo si può fare, ma in un anno si possono seguire alcune diritture che già esistono, si possono adempiere alle richieste che sono state saggiamente rivolte dall'Unione Europea, dalla Commissione all'Italia e si può quindi raddrizzare la barra. Questo è quello che si può fare, il resto naturalmente dipende dal consenso e dalla capacità di realizzazione di Giuliano Amato, ma anche dal sostegno che i partiti riusciranno a dargli, vorranno dargli. Grazie dunque a Gianfranco Pasquino, docente universitario e politolgo italiano. Buona giornata. Grazie a voi, alla prossima puntata. Grazie a voi, alla prossima puntata.